Diciamo che sono due eccellenze che si devono fondere insieme, perché io sono una napoletana, lavoro nel servizio pubblico, sono molto orgogliosa di essere napoletana e di lavorare anche per la RAI, che è una grande azienda. Napoli la omaggia, a quanto è importante per lei la tradizione napoletana, anche la festa di San Gennaro? Sono io che mi omaggio a Napoli, nel senso che, insomma, devo dire, sarebbe un atto di superbia da parte mia dire che Napoli mi omaggia, sono io che rendo omaggio a Napoli e sono venuta per questo, perché diversamente non sarei venuta, insomma. Quindi, grazie ragazzi, grazie.